Buongiorno a tutti, prima edizione di Calabria News 24 in forma, i titoli del nostro telegiornale. Arrestati i presunti killer di Carmelo Polito ucciso 8 anni fa nel Vibonese davanti al figlio di 6 anni. Bilancio delle attività estive alla questura di Crotone presentate dal commissario. Opportunità di lavoro per il personale paramedico in Olanda attraverso il centro per l'impiego di Cosenza. Al Parco Nazionale della Silla si è discusso di cambiamenti climatici e delle relative conseguenze. In apertura dunque la cronaca, i carabinieri del Comando Provinciale di Vibonese hanno arrestato i presunti killer di Carmelo Polito ucciso 8 anni fa davanti al figlio di 6 anni a San Gregorio di Ippona. Sentiamo. A distanza di 8 anni i carabinieri del Comando Provinciale di Vibonese hanno risolto un caso di omicidio assicurando la giustizia, colui che sparò e uccise, Carmelo Polito. Un delitto immortalato dalle telecamere di videosarveglianza installati in una vicina officina meccanica. Ed è qui che i militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Vibbo sono partiti per ricostruire l'agguato compiuto da due soggetti travisati da passamontagna che avevano colpito la vittima alle spalle mentre stava passeggiando con il figlio di soli 6 anni. Secondo l'accusa a sparare è stato Francesco Pannace, 32 anni, di San Gregorio di Ippona, già detenuto perché coinvolto in un altro efferato omicidio, quello di Giuseppe Prostamo. Ad incastrarlo è stata in particolare un'intercettazione ambientale captata dai militari dell'arma nell'auto intestata a Rosario Fiarè, ritenuto esponente di spicco dell'articolazione di indrangheta di San Gregorio. Francesco Pannace è infatti l'autista del boss e l'effettivo utilizzatore dell'auto. La vittima era considerata persona aggressiva e prepotente, solita ad andare in giro e chiedere soldi o a prendersi le cose senza pagare il prezzo. Annoverava diversi precedenti penali per furto, rapina, omicidio e tentato omicidio. Un atteggiamento che avrebbe creato malcontento tra gli abitanti del paese che vivevano con il terrore. Tra l'altro Polito era appena uscito dal carcere psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto dove era stato detenuto e sarebbe stato quindi giustiziato in pieno giorno per uno schiaffo inflitto due anni prima all'ozio del presunto killer e anche per dei buffetti sulla guancia, modi richiamo dati a Rosario Fiorillo in carcere, come ha riferito gli inquirenti dal collaboratore di giustizia Raffaele Moscato. E ora ci spostiamo a Crotone dove si è tenuta una conferenza stampa nella sede della questura della città pitagorica per elencare alla stampa le attività di controllo anticrimine sul territorio. Dopo il controllo del lungomare del centro città, mi riferisco al centro storico, l'attività delle volanti si è spostata in altra zona, ma non solo delle volanti. No, allora quest'ora ha voluto un pressente controllo del territorio su tutta la città di Crotone. Dopo i risultati di quest'estate che con il progetto Neacroton, che si sono concentrati sul lungomare e nel centro storico della città, abbiamo deciso di iniziare un controllo in aree della città connotate da un alto tasso di fenomeno di spaccio. In questo momento ci siamo concentrati sulla zona acquabona e da inizio mese questa attività ha consentito di identificare oltre 3.000 persone, controllare più di 1.700 veicoli. abbiamo effettuato più di 150 perquisizioni personali e una cinquantina di perquisizioni locali. Nel bilancio di questi primi 15 giorni abbiamo arrestato anche una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa attività è culminata ieri con un intervento massivo all'interno del quartiere con oltre il personale dell'UPGSP, anche dell'ufficio di gabinetto, del reparto prevenzione crimine di Siderno e Cosenza e del reparto mobile di Reggio Calabria e di Napoli. A termine di questi controlli abbiamo sequestrato a carico di ignoti due schiacciacani opportunamente modificate che comunque avevano un potenziale offensivo, una schiacciacani, una miccia esplosiva e sette detonatori che sono stati fatti brillare dagli artificieri di Catanzaro già nella giornata di ieri. Sono stati trovati in casa di qualche famiglia o fuori? No, 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 sono state trovate tutte all'esterno quindi non è stato possibile addebitare queste armi a nessuno. Quindi abbiamo enotre, i controlli si sono estesi anche con gli operatori dell'Enel. Infatti abbiamo denunciato sei persone per furto di energia elettrica più una persona per ricettazione. Si parla anche, lei diceva che ci si fa riferimento anche allo spaccio della droga. Qual è la situazione in questo quartiere? Allora, le parlo solo di dati che riguardano il quartiere Acquabona. Da inizio mese abbiamo segnalato più di 30 persone alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Quindi questo è sintomatico e indicativo del fatto che è una zona ad alto fenomeno di spaccio. Inoltre per contrastare questo fenomeno di spaccio oltre che questo sequestro amministrativo consentito dall'articolo 75 abbiamo avviato otto procedimenti amministrativi per foglio di via obbligatorio nei confronti di quei soggetti che sono estranei alla provincia di Crotone che si regolano nel capoluogo solo per acquistare sostanze stupefacenti. Un vero e proprio mercato della droga? Sì, è un mercato abbastanza esteso di spaccio di droga, prevalentemente cocaina. Quanti uomini sono stati impegnati per questo controllo anche fino a ieri? Allora nella giornata di ieri sono stati impiegati circa 70 uomini ma quotidianamente la questura di Crotone dispone su quasi tutta la giornata di 22 pattuglie. Opportunità di lavoro in Olanda per infermieri e OS tramite EURES. Si tratta di una campagna di reclutamento che il servizio pubblico olandese in collaborazione con lo sportello EURES del Centro per l'impiego di Cosenza sta effettuando su tutto il territorio italiano, in particolare nelle regioni del Sud Italia. La prossima settimana il Centro per l'impiego di Cosenza sarà protagonista di una iniziativa possiamo dire di respiro europeo. Si tratta di una Recruiting Day rivolto a studenti di infermieristica e laureati in scienze infermieristiche o laureati in infermieristica che sono disponibili a fare un'esperienza di lavoro in Olanda. A supporto di questo evento ci saranno i servizi per l'impiego olandesi che dialogano con il Centro per l'impiego di Cosenza attraverso la rete EURES che è la rete dei servizi europei che si occupa di facilitare la mobilità dei lavoratori da un paese comunitario ad un altro. Nel 31 ottobre prossimo verranno presso il Centro per l'impiego i referenti delle agenzie che si occuperanno dell'accompagnamento e dell'inserimento lavorativo di coloro che si presenteranno alla selezione. Avete avuto già adesioni? Sì, abbiamo fino adesso raccolto attraverso i nostri canali di diffusione di siti web e anche siti social una ventina di candidati provenienti da tutta la regione Calabria e anche da alcune parti, da alcune città extraregionali, alcune sedi extraregionali. Un'iniziativa che darà la possibilità di lavoro a chi aderirà? Sì, è previsto poi un accompagnamento impresso strutture cliniche sia private che pubbliche anche case di riposo presenti nella zona dell'Interland di Amsterdam. Tutti coloro che parteciperanno a questo percorso avranno garantiti il corso di lingua olandese fino al raggiungimento del livello B1 che consente poi l'omologazione della qualifica di infermiere per poter esercitare la professione in Olanda. Tutto questo percorso ovviamente l'infermiere sarà retribuito ai sensi di legge del paese destinatario. Un percorso che durerà circa 15 mesi? Sì, c'è il momento in cui si accetta la proposta da parte dei referenti delle agenzie olandesi e si deve garantire una permanenza in Olanda di almeno 15 mesi al termine nel quale poi la persona può scegliere se continuare a lavorare in Olanda oppure... Ritornare in Calabria con questo bagaglio di esperienza lavorativa. Certo, un bagaglio di esperienza lavorativa che è importante che soprattutto i giovani facciano al fine di poter incrementare le proprie competenze, di specializzarsi anche in un contesto internazionale che può essere un ottimo biglietto da visita anche per le strutture locali che sono presenti anche in Calabria. Naturalmente per chi volesse partecipare dovrà inviare il proprio curriculum all'indirizzo email del centro per l'impiego di Cosenza, cp.cosenza.provincia.cs.it Cambiamo argomento, nella sede del Parco Nazionale della Sila si è tenuto un incontro molto partecipato sui cambiamenti climatici. L'uccisione dei due poliziotti nella questura di Trieste, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, ha suscitato sgomento e commozione in tutta Italia. Tanto è vero che tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato unite a Catanzaro hanno preso parte ad una messa per quello che è stato un abbraccio simbolico alle famiglie. Non potevamo farlo in maniera migliore se non commemorando la loro anima da credenti a cristiani e da cattolici. Tante persone ci chiedono in questi giorni perché è successo un episodio del genere. Sono episodi che purtroppo, episodi simili si verificano quasi quotidianamente. Questo perché purtroppo da oltre vent'anni chiediamo regole di ingaggio, strumenti alternativi a quelli che abbiamo in dotazione per poter bloccare i delinquenti, ma contestualmente una politica assente dalle problematiche della sicurezza non ci dà nessun tipo di risposta. È necessario essere presenti e vicini al dolore delle famiglie per far sentire la solidarietà degli italiani ed è giusto essere vicini alle forze di polizia che, come le altre forze dell'ordine, giornalmente sono impegnati per la difesa della nostra terra e per la nostra sicurezza. Ce lo dimentichiamo troppo spesso, diamo tutto per scontato. Forse sarebbe più giusto ringraziarli quotidianamente perché se noi viviamo in uno stato di tranquillità, di sicurezza con tutto quello che ci circonda, lo dobbiamo al loro impegno, al loro lavoro, al loro forte sentimento di patria. A Catanzaro si è celebrata una messa solenne per ricordare i due poliziotti uccisi a Trieste presenti tutte le organizzazioni sindacali di categoria. Presidente, diciamo che questa iniziativa del Parco Nazionale della Silla sui cambiamenti climatici ha messo in evidenza non solo i problemi, ma anche quello che può essere una risorsa, il parco e tutto ciò che si può fare qui al parco. Ma sì, effettivamente è proprio così. Noi abbiamo pensato di fare questo convegno mettendo insieme tutti una serie di docenti universitari che si interessano di materie diverse, quindi un ventaglio molto ampio, per discutere su problematiche che vedono coinvolto ovviamente il cambiamento climatico, anche in funzione dell'agricoltura, della frutticoltura, della zootecchemia. Abbiamo ascoltato l'ultimo intervento della mattinata, interessantissimo, sulla podolica. Noi siamo pieni di podolica, ma siamo pieni anche di boschi, per cui anche tutte le altre relazioni che si sono alternate nel corso della mattinata hanno messo in evidenza tutta una serie di problemi, ma non problemi che vanno ad incidere negativamente su quello che è il nostro territorio. Abbiamo avuto la possibilità, e questo lo sfrutteremo, questo aspetto, e abbiamo avuto la possibilità di comprendere qualcosa in più sui cambiamenti climatici e su quello che ruota attorno al parco. E per questa prima edizione è tutto. Io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com Grazie per essere stati con noi.